Presidente, grazie. È una giornata un po' particolare, quella di oggi in Parlamento con la mozione sul Mose, su Venezia e poi questo continuo richiamo a una serie di disastri ambientali lungo tutto il nostro stivale. Il mio intervento di fine seduta, come tanti altri che ho sentito, è dedicato alla provincia dalla quale provengo, la provincia di Viterbo, flagellata in questi giorni da condizioni meteorologiche assolutamente mai viste. Presidente, io credo che noi abbiamo anche la necessità di provare a essere concreti nei nostri interventi. Oggi Confagricoltura ha parlato di decine e milioni di danni, soprattutto nell'ambiente naturalmente agricolo, per le aziende che stanno in ginocchio e hanno visto completamente cancellate le produzioni. Ritengo che il Governo si debba impegnare perché anche la Tuscia ha bisogno di attenzione e di attenzione vera. Come si può fare? Si possono bloccare le rate dei mutui, si possono bloccare quelle dei contributi previdenziali per le aziende agricole. Si deve fare qualche cosa di concreto perché al primo intervento, che deve essere quello di emergenza, poi ci deve essere un intervento programmatorio che non può essere lasciato al caso. Questi eventi climatici stanno sempre più riproponendo con maggior vigore, intensità e devastazione e quindi spetta a noi tutti poter dare nel più breve tempo possibile delle risposte. Grazie Presidente.